Ciao amici di Made in Vino, siamo con Cristian in questo bel pomeriggio d'estate a degustare per voi un buon vino bianco. C'è un particolare mancante oggi all'interno della degustazione, divertitevi a cercarlo e a trovarlo. Oggi siamo stati un po' bastanti. Oggi si. Castello di Semivicoli oggi per voi, Masciarelli, un'azienda storica in Abruzzo, Trebbiano di Abruzzo al 100%, 14 gradi, tutto affinamento in acciaio, annata 2009 per questo vino. Guardiamo nel dichiere come si presenta. Beh, direi un bel giallo dorato, consistente, molto consistente, è abbastanza limpido. C'è della vaniglia, c'è dello zafferano, lo senti? Bravo Fio. Speziature particolari, direi zafferano rosso maturo ve lo chiamerei. E poi facciamo anche qualche altro riconoscimento. Sì, probabilmente la curcuma, una spezia un po' particolare. Sicuramente secco, caldo, sicuramente caldo, però abbastanza morbido, super in bocca. Si sente che non passa in legna, che fa solo acciaio. Un vino che corre via velocemente, molto elegante, mi dà delle sensazioni di pulizia. Di acciaio, la pulizia dell'acciaio che si nota notevolmente. Direi di berlo a 8-10 gradi, lo abbinerei a qualcosa di semplice, che richiama la pulizia dell'acciaio, ma deve essere fatto bene. Un meraviglioso spaghetto, al dente, pomodoro, profumato e basilico. Viva l'estate e viva la semplicità. Amici di Made in Vino, ciao! E ricordate in particolare Mancante. E ricordate!